Nel momento che mi hanno chiamato in nazionale, io ho pensato che avessi una grande responsabilità in mano, però comunque se ero lì tra loro vuol dire che me lo sarei meritato e me lo ero meritato. È tornata nella sua Torre del Lago da campionessa Elena Francesconi, sulla sabbia delle Andrea Doria, dove ha mosso i primi passi nel beach tennis con la Bad Players, appena rientrata dalla Russia, dove ha vinto pochi giorni fa il titolo mondiale Juniors a squadre con la maglia della nazionale italiana. Determinanti per la vittoria del gruppo azzurro, le performance della giovane atleta versiliese, appena 11 anni, già pronta a nuove sfide. Per il futuro mi concentrerò e mi concentrerò a restare su questa strada che ora l'ho raggiunta, ho visto la strada giusta, però comunque mantenere la strada è difficile, ma sono sicura che con l'aiuto di Alberto Tommasi, con il mio maestro, sarà molto facile e tranquilla. Grande la soddisfazione del team Bad Players, che ha da sempre il quartier generale sulla Marina Torrelaghese, al bagno Andrea Doria. Per la scuola è sicuramente un orgoglio, perché il risultato di Elena sicuramente è importante. A 11 anni partecipare a una manifestazione del genere è senza dubbio qualcosa di bellissimo. Siamo contenti anche di tutti gli altri nostri allievi che in questo anno hanno raggiunto risultati degni di note e sempre più importanti. Questo è per noi un tempio, un piccolo tempio, dove si esercita questa scuola, dove facciamo queste attività in maniera gioiosa, in maniera costruttiva, cercando di portare sempre agli allievi il miglior contributo possibile dal punto di vista sia tecnico che umano. E quindi siamo felicissimi nel nostro percorso.